Sensibilizzazione al consumo di frutta e verdura e i corretti stili di vita. Gli adulti spiegano, i più piccoli imparano, anche e soprattutto attraverso il gioco, il movimento fisico. Un progetto Fruit and Salad on the beach, itinerante sulle spiagge della penisola. Qui siamo a Lido, Gitano, Cala Salada di Margherita di Savoia, capitale pugliese della balneazione attrezzata. In primo piano le proprietà benefiche dei prodotti della natura, ideali da consumare con le temperature elevate dell'estate. L'obiettivo degli organizzatori è far sì che aumenti nel consumatore la consapevolezza di come la frutta sia un alimento fondamentale nella dieta di ciascun individuo, in quella dei bambini ancora di più. Tra i promotori della campagna anche un'organizzazione di produttori con sede a Barletta ci credono e investono. La qualità dicono prima di tutto. Consumare frutta e verdura fa bene e consumarla di qualità fa anche meglio? Fa anche meglio, soprattutto se proviene da campi dove c'è della biodiversità, se proviene da campi dove c'è la tutela e il benessere degli insetti e delle api. Soprattutto se poi all'interno delle organizzazioni di produttori e delle aziende agricole ci sono dei flussi lavorativi che permettono un welfare aziendale. Questi sono gli obiettivi che si cercano di comunicare oggi attraverso il fruit and salad, attraverso un'iniziativa che porta un po' di sorrisi laddove ce ne vogliono e porta un po' di istruzione ed educazione al consumo di frutta e verdure di qualità.